Sternatia Sternatia si estende nel cuore della provincia di Lecce e si colloca nel territorio della Grecia Salentina, isola linguistica e lenofona in cui si parla il grico. L'abitato del paese si posiziona in un'ampia vallata, protetta dalle alture delle serre salentine, in particolare dalla serra di Martignano e dalla serra di Soleto. La tradizione economica agricolo-pastorale risalta nella verdeggiante campagna che rigogliosa cinge l'intero abitato. Il protagonista è l'olivo, che si estende in vaste coltivazioni, quest'ultima racchiuse e divise dal pietrame lineare dei muretti a secco, caratteristico elemento architettonico della civiltà contadina. La campagna Sternatese è una ghirlanda di colori e profumi del Mediterraneo, un paesaggio rurale che testimonia la tenacia delle genti del sud, di uomini e donne che nel corso dei secoli hanno modellato una terra aspra per renderla ricca e feconda di frumento e olive. La storia dell'antica società agricola rivive nelle forme architettoniche delle masserie, tipici fabbricati rurali del Salento, che in passato rappresentavano dei veri e propri centri produttivi. A Sternatia merita attenzione la masseria Chicco Rizzo, centro produttivo risalente al XVIII secolo e antica stazione di posta per gli spostamenti a cavallo. Le masserie erano caratterizzate dalla loro possente struttura difensiva, a garanzia della protezione delle piccole comunità rurali che operavano al loro interno, paragonabili a veri e propri nuclei di produzione autosufficienti. Il retaggio pastorale si fa evidente nel panorama che si estende tra l'abitato di Sternatia e il comune di Soleto, nell'avvallamento chiamato l'acqu del capraro, utilizzato in passato per l'abbeveramento delle greggi. Spostandoci verso il paese ritroviamo l'abbondanza e la presenza assidua degli spazi verdi anche all'interno dell'abitato. Infatti il territorio gode di un ampio parco cittadino, posizionato nella parte nord-est del paese e attrezzato per il tempo libero dei bambini e delle famiglie. A coniugare il paesaggio naturale con il centro abitato è la Pietra Leccese, ancora oggi estratta dalle cave a pochi chilometri da Sternatia. È, come nel passato, impiegata nell'ambito decorativo ed edilizio. La squisita Pietra Calcarea la ritroviamo trionfante per le strade del Borgo Antico, negli spazi armoniosi che dominano lo scenario urbano, in scorci caratteristici dove si fa viva la presenza autentica della cultura grico-salentina. Il Borgo di Sternatia conserva ancora oggi l'antico impianto urbano. Il Borgo di Sternatia conserva ancora oggi l'antico impianto urbano, consolidatosi strutturalmente all'inizio dell'evo moderno. Già dall'epoca angioina l'abitato era protetto da una cortina muraria difensiva, mentre il castello di Presidio fu fatto riedificare dalla famiglia degli Orsini del Balzo, ai tempi della Contea di Soleto. Al Cinquecento risale il rifacimento del circuito murario, ad opera dell'architetto militare evangelista Menga. In passato erano presenti tre porte, dette Porta di Lecce, Porta Est e Porta Filia. Ad oggi rimane evidente la struttura di Porta Filia, dal greco amore e amicizia, per tale motivo conosciuta anche come Porta della Pace. Il centro storico di Sternatia si raccoglie intorno al prospetto della chiesa matrice del paese, dedicata alla Madonna Assunta. L'edificio fu realizzato nel secolo XVIII sui resti della precedente parrocchiale. Imponente nelle sue forme monumentali, come per la maggior parte delle chiese matrici del Settecento Salentino, la struttura è caratterizzata dalla presenza della maestosa Torre Campanaria, realizzata dal celebre architetto copertinese Adriano Preite. L'architettura tridentina si manifesta nell'impianto a croce latina e nell'interno si stagliano gli altari laterali, decorati secondo le consuetudini formali del Rococò. La devozione Sternatese è raccolta nella macchina dell'altare, dedicato a San Giorgio, patrono della città. La devozione per il Santo Cavaliere è molto sentita in tutto il territorio della Grecia Salentina e nell'intera regione otrantina. Degna di nota sono le decorazioni a tempera che adornano il soffitto e realizzate nel 1864 dal pittore Garganese, opere di rimando a episodi biblici ed evangelici. Il centro storico di Sternatia conserva nei suoi scorci incantevoli la tipica architettura tradizionale salentina. Percorrendo le antiche stradine che si articolano nell'abitato è possibile ammirare diversi edifici riconducibili alla tradizione edilizia del Cinquecento e del Seicento, di incredibile fascino romantico. Nel cuore di Sternatia si possono individuare altre tipologie architettoniche dell'antica società salentina, come il Mignano, tipologia di balcone diffusa nel territorio della provincia di Terra d'Otlanto. I balconi erano sfruttati in particolar modo dalle donne per godere del fresco nei periodi estivi e poter realizzare in piena tranquillità i tradizionali lavori domestici, come il ricamo e il cucito. Quelle Sternatesi sono le forme di un salento spontaneo. Gli spazi sono amati e vissuti dagli abitanti del luogo, i quali con estrema attenzione si prendono cura dell'importante patrimonio storico che impreziosisce e rende unico il grazioso borgo antico. La religiosità di Sternatia per secoli è stata animata dalla presenza del convento dei frati predicatori. Intitolato Santa Maria di Tricase Posizionato nel centro dell'abitato, il nucleo più antico del convento dei Domenicani venne istituito dai frati a cavallo dei secoli XV e XVI. Dopo una prima chiusura avvenuta durante la riforma innocenziana, la struttura fu rinnovata e riedificata nei primi anni del Settecento, per essere definitivamente soppressa e incamerata con l'attuazione delle leggi napoleoniche all'inizio dell'Ottocento, durante il regno di Giacchino Murà. La fisionomia esterna dell'edificio si organizza in forme austere e monumentali, sviluppandosi sull'orizzontalità degli spazi. Sono i balconi e il grande loggione a interrompere il rigore prospettico, insieme al possente portale d'ingresso, intreziosito dalla decorazione abbugnato. All'interno si apre il grazioso e luminoso chiostro del convento, caratterizzato al centro dalla presenza della sobria vera del Pozzo. Nel palazzo oggi assiede la Casa Comunale, insieme agli uffici amministrativi del Municipio Sternatese. Ad affiancare il complesso conventuale vi è la Chiesa dei Domenicani, contraddistinta dalla facciata solenne e da delicate decorazioni. Il grazioso portale è sormontato dall'arme religiosa dell'Ordine dei Predicatori, ovvero da un cane che regge tra le fauci una torcia accesa. Gli spazi interni si armonizzano in un'aula unica, dove fa sfoggio l'arte edilizia decorativa del Settecento di Terra d'Otranto, messa in risalto dalle cappelle laterali e dall'elegante altare maggiore. La chiesa di Santa Maria di Tricaso conserva nel suo apparato iconografico la bellezza e l'eleganza delle committenze domenicane della Puglia Meridionale, quando l'arte sacra era utilizzata dai fradi mendicanti per la catechesi e l'evangelizzazione dei popoli. La chiesa di Santa Maria di Tricaso L'antica fortezza di Sternatia, voluta dagli Orsini del Balzo, fu trasformata nel Settecento in una delle residenze nobiliari più affascinanti della provincia di Terra d'Otranto. Il processo di evoluzione architettonica fu voluto dalla famiglia Granafei, feudataria di Sternatia dal 1734. Gli storici dell'arte attribuiscono la progettazione del palazzo all'ingegno dell'architetto leccese Mauro Manieri. A ravvivare le geometrie lineari dell'edificio è il grande portale, realizzato in forma monumentale e sormontato dall'arme nobiliare dei Granafei. La parte superiore del palazzo è cinta da un elegante balaustra, presente sull'intero perimetro della facciata. Il complesso edilizio ospita due giardini, decorati da eleganti scolpiture che adornano panche e cisterne. Gli spazi esterni sono organizzati in vari livelli e rappresentano dei veri gioielli dell'architettura dei giardini di fine Settecento. Ai Granafei apparteneva il frantoio ipogeo scavato interamente nella roccia e collocato nei pressi dell'antica Porta Filia, nella zona dove un tempo si estendeva il giardino nobiliare del palazzo. In passato l'invaso era costituito da due ambienti, poi unificati per favorire l'organizzazione di un nuovo trappeto, evidentemente più funzionale per la produzione dell'olio. Restaurato negli anni Ottanta, il frantoio fu utilizzato sino all'Ottocento ed ancora oggi si possono ammirare al suo interno le vasche originali e i resti dei torchi per il trattamento della pasta di olive. Per secoli i frantoi hanno sostenuto l'economia della penisola salentina e ancora oggi è possibile rivivere le fortune della storia olearia di terra d'Otranto, grazie anche alla riqualificazione dell'antico trappeto Granafei. Starnatia gode di un importante patrimonio storico-artistico-religioso, retaggio della fede e della devozione cristiana che è ancorata nelle genti di questo affascinante territorio. La cappella di San Vito fu riedificata nel Seicento su un impianto strutturale più antico di probabile origine medievale. L'edificio si colloca lungo l'asse viario che un tempo collegava il paese con Lecce. La chiesetta ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche e al suo interno si possono ammirare diversi affreschi devozionali, tra i quali spicca il santo martire Vito. Sulla strada di raccordo tra Starnatia e Galugnano sorge la chiesa della Madonna degli Angeli. In passato, il sagro edificio era annesso ad un piccolo convento dei Frati Francescani, comunità religiosa che ha operato a Starnatia a partire dal Cinquecento. Le forme architettoniche sono molto semplici e lineari, come si evince dalla facciata decorata da un piccolo portale in pietra e da una croce lapidea sormontata in cima. Ad oggi rimane ben poco della struttura conventuale francescana, mentre ancora viva la devozione del popolo che si manifesta in particolare il giovedì dopo la Pasqua, con festeggiamenti religiosi e attività ludiche di comunità. La Cappella della Madonna dei Farauli è situata lungo la strada rurale che conduce a Martignano e prende il nome dalla contrada in cui è situata. La piccola chiesa gode di un interessante portale decorato da due semicolonne e da una scolpitura posizionata sull'architrave. La chiesa ha subito importanti modifiche nel corso del Novecento, ma al suo interno si conservano diversi affreschi parietali ed un altare realizzato nel Settecento dallo scultore Emanuele Orfano. Le piccole architetture religiosi sternatesi si collocano nella fascinosa campagna circostante all'abitato, come testimonianza dell'antica storia delle genti di questa terra. La Cappella della Madonna dei Farauli è stata un'attica storia di un'attica storia di un'attica storia di un'attica storia. La Cappella della Madonna dei Farauli è stata un'attica storia di 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 un'attica storia